Musica Siamo venuti a trovare Paola Mortara di PhoenixDG, buongiorno Paola. Ho notato che quest'anno lo stand è un po' diverso da quello degli ultimi anni. Vuoi spiegarci qual è il leitmotiv quest'anno della vostra presenza a Viscom 2015? Il concept di quest'anno è Freeze the Power of Color e abbiamo deciso di fare uno stand che si basa sulla semplicità, al contrario degli altri anni come hai notato tu. Quest'anno abbiamo voluto sbalordire con uno stand invece totalmente aperto, totalmente bianco, totalmente dedicato alla tecnologia, dove abbiamo però molte installazioni multimediali, per presentare i prodotti sia all'interno dello stand sia all'esterno. C'è una serie di video che abbiamo realizzato durante l'allestimento con tecnologie particolari per dare modo ai clienti anche che passano fuori di vedere quello che succede dentro e poi abbiamo basato tutto lo stand sull'interattività creando delle app per ogni stampante dove il visitatore può interagire con iPad e rendersi conto dei prodotti, dei video che riguardano i prodotti che abbiamo realizzato e poi chiaramente parlare con noi che siamo qua per quello. Bravi, moderni come sempre. Quali sono le case che rappresentate quest'anno? Beh, da un paio d'anni abbiamo fatto una svolta importante, oltre a Swisscooprint che è il nostro brand principale di cui siamo distributori esclusivi, quindi abbiamo due stampanti quest'anno nello stand, HP ovviamente in forze, abbiamo tutta la gamma prodotti HP sullo stand e quindi possiamo dare al visitatore una scelta ampia di prodotti, rispondere a varie applicazioni e quindi dare delle soluzioni complete. Benissimo, so che è il primo giorno di fiera ed è appena iniziata, però mi è sembrato di notare già un movimento interessante. Cosa ne pensi e quali aspettative hai nei confronti di questa edizione? Viscom è la fiera più importante per il nostro settore, quindi ogni anno abbiamo tantissime aspettative e fino ad oggi negli anni sono sempre state soddisfatte. Ci aspettiamo di incontrare i nostri clienti, ci aspettiamo di incontrare clienti nuovi, di parlare di tecnologia, di innovazione e di concretizzare nel post fiera tutte le visite che abbiamo visto, incontrando i clienti a casa loro e tutti i visitatori che sono venuti. Sicuramente è una fiera importantissima per noi. Grazie Paola. Grazie a te, grazie a voi. Grazie a te.